Non lo sapeva io! Allora, oggi sono stato costretto in macchina ad aspettare un po' di tempo, un appuntamento che tardava ad arrivare. E allora ho fatto un po' di ordine, come spesso accade, è una macchina che uso per tanti scopi differenti, lavoro, famiglia, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, ogni tanto c'è un po' di cosette da sistemare. E tra queste cose, insomma, che mi sono rimesso a posto, ho ritrovato anche una copia di questo, cioè no, due o tre in giro, in quanto autore. E questo era rimasto in macchina, dentro una borsa. E mi sono rimesso un po' a leggerlo e ho trovato un argomento molto molto interessante, che potrebbe far partire una, diciamo, rubrica parallela della nostra non lo sapeveglia. Infatti, tra questi argomenti c'è questo bellissimo del Museo delle Curiosità Naturali, Peregrine e Antiche del Cardinale Flavio Chigi. Poi ne parliamo. Allora, mi sono detto, eh, Museo delle Curiosità, quante volte noi andando a visitare un museo, un'area archeologica, abbiamo delle curiosità che poi rimangono un po' in evase. Oppure abbiamo queste curiosità, chiediamo, ma l'addetto di turno in quel momento o non ci sa rispondere o ci risponde un'altra cosa. Insomma, cosa c'è di veramente curioso all'interno di musei, aree archeologiche, luoghi, siti archeologici che sono spesso chiusi al pubblico e che vengono aperti solamente in maniera straordinaria? Allora, cercherò, cercherò di prendere contatto con i responsabili di questi luoghi e provare insieme a loro, insieme a loro, a visitare questi luoghi, per voi utenti della pagina, ma insomma per tutti quelli che potranno vedere questi video, per cercare di capire quali sono gli elementi più curiosi, appunto, dei siti che andremo a visitare. D'altra parte è una rubrica di curiosità, non lo sapeva io, potreste esclamare anche voi alla fine di uno di questi video, vedi, non lo sapeva io. Ma, insomma, partiamo dal più antico museo raccolta di cose particolari, appunto, naturali, peregrine e antiche, organizzato, allestito dal cardinale Flavio Chigi nel suo palazzo di Formello. Allora, partiamo da cosa? Partiamo da tutta una serie di informazioni che abbiamo su questo museo. Intanto il cardinale Flavio Chigi, ve l'ho raccontato più volte, se volete recuperate il video su Villa Versaglia, era un personaggio molto particolare, ma non si discostava molto da quelle che erano le tematiche culturali dei suoi pari, personaggi molto facoltosi e molto in vista, che amavano, contemporaneamente, insomma, siamo alla metà del Seicento, amavano collezionare oggetti. E molti musei delle curiosità nascevano in quel momento, collezioni private legate, appunto, a queste figure che anche un po' viaggiavano, per cui noi conosciamo, diciamo, l'origine del museo delle curiosità, anche se, diciamo, riusciamo a attribuire questo museo delle curiosità al cardinale dal momento in cui diventa cardinale, dal 58 in poi, non sappiamo se lui avesse già una collezione personale di oggetti, souvenir, di viaggio o cose che lo incuriosivano, che aveva acquistato da mercanti nei suoi trascorsi precedenti. E quindi, a un certo punto, questi oggetti, insieme ad altri acquistati ad hoc, confluiscono nel suo museo delle curiosità. Come mai questo museo si trova a Formello? Che ne sappiamo noi? Beh, lo sappiamo da una serie di informazioni. Intanto c'è una bellissima, bellissima guida, diciamo, si chiama nota, degli musei, librerie, gallerie e tornamenti di statue e pitture dei palazzi nelle case e nei giardini di Roma di Giovanni Pietro Bellori, redatta nel 1663-64. In questa guida turistica, praticamente, in cui cita tutti questi case private, palazzi, giardini, dove si trovavano delle collezioni note in quanto collezioni, lui, tra queste, cita anche, appunto, questo museo delle curiosità naturali, peregrine e antiche, così viene definito, del cardinale Flavio Chigi, nel suo castello di Formello. Per cui, insomma, quello di Formello viene definito ancora castello e non palazzo, perché ancora non ha subito quelle trasformazioni che lo trasformeranno da castello a palazzo, diciamo, negli anni 70, primi anni 80 del XVII secolo. Quindi è ancora un castello, ha ancora la forma del castello degli Orsini, rinascimentale, ed è quel castello, appunto, che i Chigi hanno acquistato insieme a tutta la terra di Formello nel 1661, insieme poi a Campagnano, Cesano, Sacrofano e Magliano Romano. Quindi, questo castello ospitava anche un museo. Dove si trova, per chi è pratico di Palazzo Chigi, se può interessare, più o meno si trova nelle sale che oggi sono occupate dalla biblioteca comunale, al piano terra. C'era un'anticamera e poi la sala vera e propria del museo. Noi conosciamo anche degli inventari di Palazzo Chigi, tirati fuori come le notizie sul museo da Ifke van Kampen, degli inventari che ci raccontano non gli oggetti del museo, in questo caso, ma ci raccontano dei mobili che si trovavano all'interno. Dobbiamo immaginare, e sperare ancora di trovarlo da qualche parte, che ci fosse anche un inventario del museo di Formello, almeno fin quando il cardinale era in vita. Sappiamo poi che nel 66 questo museo è ancora a Formello e probabilmente nel 67 questo museo verrà trasferito a Roma, al Casino delle Quattro Fontane, che era un'abitazione che si trovava sul Viminale. Oggi non esiste più perché gli architetti piemontesi, ottocenteschi, l'hanno buttata giù per la realizzazione di Via Nazionale. Quindi dove era Via Nazionale c'era in realtà. Dove oggi a Via Nazionale c'era in realtà questo Casino delle Quattro Fontane e quando il cardinale Flavio eredita dal padre nel 66 questa proprietà, trasferisce lì tutta una serie di cose, tra cui probabilmente anche il suo museo, che era pieno di oggetti strani e curiosi, lo dice lo stesso nome del museo, curiosità naturali, peregrine e antiche. Le curiosità naturali è facile capirlo. Erano conchiglie, oggetti naturali, per esempio c'era il corno dell'unicorno, che era sicuramente un dente di narvalo, questi cetacei dei mari del nord, che hanno due denti, di cui uno cresce per dritto e tutto attorcigliato, esce fuori, ma con una lunghezza pazzesca, e questi oggetti se li regalavano tra di loro i nobili, tant'è che forse il corno dell'unicorno, montato su un treppiede con delle zampe, forse di leone in legno su questo treppiede, su cui spuntava questo corno di unicorno, era stato regalato al cardinale Flavio dalla regina di Svezia. Insomma, una serie di passaggi tra nobili che si compravano e si regalavano cose. Ma, Maria Cristina di Svezia, tutti questi oggetti naturali ovviamente dovevano suscitare una certa curiosità. Quello era lo scopo del museo. Quindi curiosità naturali, ma curiosità anche peregrine. Le curiosità peregrine, solitamente in questi musei privati, erano curiosità che venivano fuori dall'Europa. In gran parte oggetti turcheschi, cioè oggetti provenienti dal Medio Oriente. Il mondo turco, l'impero ottomano, suscitava molto interesse, nonché molto timore, tanto che gli ottomani arrivarono tra l'83 e l'84. insomma, proprio in questo periodo, pochi anni più tardi, alle porte di Vienna e vennero fermati, fortunatamente, da una lega di paesi europei che appunto sbarrarono la strada a questi invasori. Insomma, come arrivava l'invasore, arrivava anche la notizia dell'invasore e gli oggetti del nemico diventavano anche oggetti che suscitavano interesse. Ma non solo ci sono oggetti provenienti dall'Africa, oggetti provenienti dall'Estremo Oriente. Come arrivavano questi oggetti? Beh, viaggiavano con le navi, navi mercantili che portavano indietro, diciamo, spedizioni mercantili che portavano indietro i prodotti che si volevano acquistare e che in qualche modo portavano con sé anche piccoli oggetti che occupavano poco spazio ma che avevano un grosso valore. E chi si occupava di acquistare questi oggetti per conto del cardinale? Anche questo abbiamo la documentazione. Abbiamo questo signore qui, eccolo qua, vi faccio vedere la foto, Niccolò Simonelli, che era il guardarobbe, guardarobbe così veniva definito, una sorta di curatore del museo del cardinale. Era quello che aveva in qualche maniera la borsa dei soldi, c'erano delle destinazioni di spesa. Dice, quest'anno quanto vogliamo spendere? Ma non lo so, tu intanto vedi se trovi qualcosa di interessante, poi vediamo. Oppure c'aveva carta bianca, chissà, per comprare oggetti eccezionali. Insomma, questo Niccolò Simonelli non solo provvedeva all'acquisto ma gestiva anche proprio lo spazio del museo e quindi della collezione. E lui acquistava questo oggetto. In questa foto, che ritrae questo quadro di una collezione privata, Niccolò Simonelli probabilmente si trova nel museo delle curiosità di Formello. Lo sappiamo perché l'autore è un ragionamento che ha fatto Francesco Pedrucci, il direttore del museo del barocco romano di Palazzo Chigi da Riccia, ha fatto un ragionamento. L'autore del quadro muore nel 66 e quindi probabilmente il quadro è stato realizzato prima del 66, potrebbe essere stato realizzato quando Simonelli si trovava nel museo che si trovava a Formello. Dunque, insomma, questa potrebbe essere un'immagine del museo delle curiosità che si trovava a Formello. Guardate che oggetti che ha, una statuetta antica in mano di un priapo probabilmente sembrerebbe. Guardate, dei cucchiaini fatti con il manico di madreperla, statue antiche, vedete una testa femminile sotto al tavolo, medaglioni ed altre cose, faretre appese alla parete, insomma tutta una serie di cose e arriviamo anche all'ultimo termine che definisce il museo, cioè le curiosità antiche. Allora, per le curiosità antiche ovviamente si tratta di oggetti archeologici che si riferiscono appunto all'antichità del nostro passato e quindi anche ovviamente del passato del popolo del Seicento, quindi anche del cardinale, eccetera, eccetera. Allora, noi sappiamo che il cardinale ha fatto numerose ricerche archeologiche a Veglio, alcuni di questi elementi delle ricerche archeologiche del cardinale Flavio le ritroviamo anche a Roma, per esempio le colonne del colonnato di Piazza Colonna, appunto davanti a Palazzo Chigi, c'è anche scritto sopra Veiorum Columnis dell'ex Palazzo del Tempo, diciamo, del quotidiano Il Tempo e altre le troviamo a Formello, la statua di Maripara o la statua cosiddetta dell'Imperatore facevano parte queste statue già della collezione di curiosità del cardinale ma c'erano molte altre cose, alcune cose che appunto sono confluite anche in altre collezioni perché alla morte del cardinale Flavio il suo museo passa ai suoi eredi e poi durante tutto e lì abbiamo diciamo alcuni inventari con tutta la descrizione di questi oggetti però insomma la collezione è abbastanza completa è chiusa in qualche modo e non si può fare molto altro che vederla disperdere Yveske van Kampen ha fatto un lavoro incredibile nel seguire questa dispersione andando a ripescare tutti gli oggetti sparpagliati in musei di mezzo mondo è incredibile questo un lavorone proprio e si trova tutto spiegato qua dentro allora mi sembra difficile riassumervelo tutto la cosa interessante è che questo museo è in qualche modo diventato una sorta di di modello no? a Palazzo Chigi un museo nel 600 allora quando bisognava rifare il museo dell'Agroveglientano si disse per quale motivo non partire dall'idea di un museo che c'è già stato in questo palazzo per fare il per collocare qui dentro il museo insomma attuale quello che c'è adesso insomma il museo dell'Agroveglientano è stato diciamo è quasi un gioco però un gioco molto molto efficace troverete poi tra i miei video altri riferimenti alle collezioni che si trovano all'interno del museo dell'Agroveglientano di Formello e allora dunque museo delle curiosità del cardinale Flavio Chigi in qualche modo influenzato io anche da questa cultura locale vi stimolo come sempre alla curiosità e quindi stimolandovi alla curiosità vi farò sapere in qualche maniera quale museo riuscirò a visitare con questa formula andando a parlare diciamo proprio a chiacchierare con il direttore attuale o con chi insomma potrà farsi due chiacchiere con me e all'interno degli spazi con le collezioni sotto mano o con le strutture sotto mano come nel caso di aree archeologiche e cercheremo di portargli portare a questi insomma funzionari direttori le curiosità che vi vengono in mente a questo punto quindi insomma il vostro la vostra voglia di sapere ma anche lo stupore in qualche maniera un po' seicentesco rispetto a questi musei perché insomma vabbè abbiamo tante descrizioni dei luoghi ormai tanti video cerchiamo di portare un po' di aspetti curiosi di tirare fuori un po' di curiosità da questi luoghi e insomma speriamo di dire tutti quanti non lo sapevo io degli entani sumus ciao ciao